Omerta, omerta, ci ha anche dato il titolo, no? E guardate, badate bene, per questi ragazzi, questi di queste baby gang, questi gruppi, la violenza, il mancato rispetto, l'infrazione delle regole, non è una casualità, è una scelta teorizzata, espressa, esibita, hanno e ascoltano e fanno delle canzoni che hanno dei video con queste immagini che vedete alle mie spalle, vedete? Immagini di pistole, fucili, spaccio ripreso in diretta, scimitarre, e i testi di queste canzoni che hanno milioni e milioni di visualizzazioni su internet dicono cose terribili, ce n'è una che dice hai 50 buchi addosso, non ti salverà un dottore, ho lo stick caldo, lo stick è la canna del fucile, ho la canna del fucile caldo, hai due colpi in fronte, sai che rimango fino alla morte, questa canzone ha fatto 20 milioni, è stata vista 20 milioni di volte, un'altra, mangio pasticche, divento violento, ti spengo col ferro, cioè con la pistola, se mi sto divertendo, un'altra, con i soldi della droga ho comprato la pistola, sogno settimane al caldo, rischio settimane al gabbio per farti un buco in testa, e ancora, bang, 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 se vengo ti apre un buco, poi hai chiuso, se si muove colpo in testa, bang, 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 milioni di visualizzazioni, altro che integrazione, questo abbiamo creato con la retorica, con la parola dell'accoglienza, dietro la parola dell'accoglienza c'è questo, e ci sono situazioni così.